La conferenza stramba di oggi parte da questo allarme a Pisa e le espulsioni di questo studente turco di 25 anni che era alla normale. Io ho letto le sue dichiarazioni anche a Repubblica e mi viene da pensare normale una sega, uno che aveva intenzione di farsi esplodere davanti alle ambasciate che ha scritto la CIA, tanto normale non mi sembra, ma altrettanto esplosiva è senza dubbio la riforma Fornero che non si tocca in virtù della sentenza di non possibilità di referendum proposta da Salvini per abrogare quella legge che aumentò l'età pensionabile. Ho sentito anche stamani la Fornero a Radio 24, è veramente sconvolgente pensare che il Presidente Napolitano nominò senatore a vita Monti che nominò ministro la Fornero che ce lo misero un culo tra tutte e tre che mi pare manco il vero. Andando poi al Papa, che da oggi si lascia dichiarazioni eccezionali, leggo svolta del Papa, aprirà sul condom e dice non fate figli come i cunigli, ma se apri il condom, ora lui il Papa non è esperto ai preservativi, se l'apri è la volta che, e la rimane incinta caro Papino, quindi quando hai bisogno di consigli chiedi a me, andiamo ad un'ordinanza dell'autovelox che farà piacere a tutti i cittadini, l'autovelox deve rispettare l'ambiente, quindi il cartello di avvertimento della polizia deve essere ben visibile e soprattutto se non rispetta l'ambiente la multa non è valida, potete fare ricorso. Ad Arezzo che succede? Nel mirino ancora Mauro Peloni, gli è stata rubata la cassa con quei bracci si è avventato sulla ladra, ha recuperato la refurtiva, ma io ho capito perché il Peloni c'ha un furtto alla settimana, perché siccome quando viene a casa mia porta il vino, secondo me vuole fare, dice no ma è rubato, vuole smettere di portare il vino alla scena con Lucianino. E chiudiamo, cara Rita con i saluti, con l'ingiusta squalifica per l'allenatore dell'Arezzo Capuano perché ha per blasfemia, cioè ha moccolato in campo. Ora, chiunque di voi è stato alla partita di domenica mi può dire come si poteva non moccolare, quindi da ora io punirei non chi moccola, ma chi fa moccolare, cioè i giocatori dell'Arezzo. Buona giornata!